Lo è stato in passato e continua ad esserlo, ne sono testimonianza di innumerevoli progetti di riqualifica ambientale ma anche l'impegno costante e quotidiano che l'amministrazione cerca sempre di portare avanti. Infatti questo evento che si terrà il 21 novembre a Caviglia rappresenta questo. L'amministrazione ha accolto con grandissimo favore l'invito dell'associazione Plastic Free, in particolare del referente della nostra area aretina, Valdarnese, Roberto Russo, di patrocinare questa iniziativa. Si tratta di un'iniziativa di raccolta rifiuti stradale e assume una doppia valenza. Da un lato l'intenzione è quella di sensibilizzare la cittadinanza facendo vedere che i cittadini si preoccupano in prima persona della rimozione dei rifiuti e dall'altro lato direi che è anche una finalità concreta perché in effetti tutta quella sporcizia che viene incivilmente depositata sulle banchine sarà rimossa in ingenti quantità purtroppo. Si tratta quindi di un evento importante, di un evento che si terrà lungo la via Chiantigiana, luogo ricchissimo di vegetazione che merita una valorizzazione. Lì vi sono grandi boschi che meritano rispetto e senz'altro non devono essere trattati in questa maniera. In effetti il 21 di novembre è anche la giornata nazionale dell'albero quindi siamo lieti che sia stato individuato questo luogo perché è un luogo ricco di verde e ricco di natura.